Ciao, ciao, buongiorno! Buongiorno! Questa si sta a raggiungerlo! Dove stanno andando? Andiamo a pergere la scuola con i primi consegni Stai a me insegnare? Ha fatto l'India oggi No, saranno aziende le pette le aziende, Garo No? Eh, le pette le aziende Ci sono tutti gli anni lì da l'India Sì Comunque oggi è venuto E non ho fatto il vlog di Di mercoledì e giovedì Giovedì non sono venuto E il mercoledì siamo andati Per la zona di Merda che era messa E neanche il vlog E per te E' un po' Da pubblicare così Ci vediamo nei punti posti di ragacciata Siamo a Vergine Vergine ma sugana non parte Vergine ma sugana? Dove hai mai visto? Dove hai mai visto? Sì Adesso vai guardami Visto la cosa Ma che ne ha questo? Ma siamo già venuti? Non era questo Palo Com'è che guidi tu vecchio Con una mano? Guardalo Dai tu devi guardare dove vado con il furgone Non è mai come dire E dov'è che vai col furgone? Un culo a quello A cercare il farco dai Sì Apri Perché così sporco? Dove cazzo è stato? Sì 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 Guarda per te ci vede bene Eh? Ci vede in terra E a me che è molto amministratissima Che non c'è la mano di brava Comunque non mi piace il suo YouTube Com'è fare il cogliere? Com'è? 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 Bello? Bello Bello Guidi tutto il giorno Non dicevo che il giorno Per me Per me Per me sono fatti E come ne posso? E come posso? Ecco Le cose positive e le cose negative Quindi Nessuno non ti rompe il cazzo Esci da solo Vai con un culpone Ti arrangi Sonda non proprio Nessuno ti rompe il cazzo Che niente No Sì Se tu Hai finta che sei bravo Non ti romperanno Non ti romperanno Quelle persone che chiedono Cosa c'è nel pacco Secondo te al Corriere Lo sa Non ci rompe il cazzo Sì Se sei fortunato Lo trovi Sì Le lampadine Sì Ho capito Però se te ordini da internet E gli aspettati Cosa ti arriva? Non è che compri così Cioè compri così Occhi chiuse Poi chiede il Corriere cosa c'è Cioè Cosa devo aprirtelo davanti E dici Guarda c'è le lampade E dove? La bolla Ma dai Sì Ma capisci che Un'altura di coglioni Perdi anche tempo No? Come quelle persone che Dopo 200 scale che fai Per una Garcevanica Ho fatto 200 scale in su E' arrivato lì Ma cos'è? Non ho ordinato io Era mio marito Ma il cazzo me ne frega E' da pagare il pacco Per il mio marito E alla fine? Eh, alla fine Me ne fregono i soldi E 300 scale in giù Eh, ma ti fa niente Eh, appunto Sono anche quelle persone Che ordinano Sanno che devono pagare Però non preparano i soldi E non preparano niente E tu arrivi lì Che vuoi fare? Eh? Quelli che ordinano Sanno che devono pagare Arrivi lì Però dicono Eh, non sono più niente Non ho i soldi Quindi gli danno sbagliate Quindi gli danno il resto Se c'hai da dare il resto Ma di tempo, no? Eh, ci sono dei modi O... Beh, fai su... Qualmare Come... Il cliente non paga niente Ma io metto sempre avviso Perché gli lascio avviso alle persone Dico Adesso avviso Perché due visi E basta Un po' di mani E se lo vanno a pigliare? Ai 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 Poi Poi le cose positive E' che se conosci una zona Finisci anche alle due Le tre Vero? Sì Vai a casa Guarda, tu vai a casa Non è un orario fisso Quando finisci Te vai a casa Poi se vuoi fare anche il secondo giro Ti viene il doppio della paga Te vai a fare anche il secondo giro No? E' bello fare il jolly, vero? Eh? E' bello fare il jolly Sì Sapete cos'è il jolly? E' quello che ogni volta cambia zona No? Cioè ogni giorno non sai dove andai Zona nuova, zona... che sai Sì Insomma Non è il punto bello di questa giornata Eh? Ti conosci zone nuove? Posti nuovi No? Anche se a volte vai nel culo proprio Come l'altra volta mercoledì E almeno conosci zone nuove Eh? Comunque adesso noi siamo nel Lidl Eh? Comunque adesso noi siamo nel Lidl Che c'è un po' che non c'è le moti ma siamo Non Lidl Che vuol chiamare Lidl? Non c'è solo Lidl qua Sì ma perché vuol Guarda fai video di Lidl Sì ho capito Sì ho capito Molinare Sport Itaucina Gisc Orvera Sì ma io lo chiamo Lidl Io lo chiamo Lidl Giordo si mangia nam nam Si mangia Questa si mangia a mezzogiorno Proprio dolce Molto uguale Molto dolce Molto uguale E dov'è che ci fermiamo a mezzare? Qua 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 Ecco film Ti mica mangi mentre vai Insomma Si mangia pizza Am am E non ti fa vedere così Devi aprire Aprire Perché sempre ti lamenti E fai così Am am Buon appetito raga Bye bye Andiamo a prendere Lidl Com'è che è andata con segnali? Bene Bene Sicura L'hai scaricata giù per terra Come cattivone Non è vero assolato Ho riuscito a fare la signora Ho chiesto per Roberto Sì ma Lo lasciatelo Ho detto così Così E la chiediamo? Ora che sei tu quello che lascia di solito mangiarsi i cani eh Sì 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 E' giusto questo Di sfumare E' giusto Lui dovevo fermare amica tu Ora posso filmare Con me Beh racconta Abbiamo finito il ci defendant E' pare di sì Pare di sì Oddio questo giorno E adesso andiamo a Bergine, si è aperto, se non c'è E poi andiamo a far ceramica Comunque raga, vi siete mai chiesti perché tutti i corrieri sono stranieri? Vuoi raccontare tu perché? Non è vero, ci sono anche italiani in parte Si, raro, raro, però la maggior parte sono stranieri Perché? Perché sono maggior parte stranieri? Eh, perché questo lavoro non è adatto a tutti Ci sono altri che ci provano, stanno una settimana, due e poi vedi che scappano via, vero? E' da successo Eh, vedi? Cioè, questo lavoro è faticoso, non è facile come tutti credono Vai a prendere i consigli di faccio No, per molti non è facile, sai Perché devi imparare tutte le vie, ma mori Non ce lo farei male Non so neanche le vie di casa mia, figurati Oh no Oh no Quindi non vi lamentate che sono stranieri, eh Questo lavoro è giustizio Quindi questi stranieri sono bravi, ok? Non dite che sono cattivi e bla 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 Perché sono, solo perché sono stranieri Sono bravi No 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 No